Stiamo vivendo un momento molto difficile per l'Università pubblica, perché donare il 5x1000 all'Università di Torino? Credo sia importante essere estremamente concreti e vi propongo una cosa concreta da fare. Cerchiamo di finanziare con le vostre donazioni 10 borse di dottorato per compensare i tagli che l'Università di Torino ha dovuto fare nel suo bilancio 2013 per la riduzione del finanziamento pubblico alle università statali. L'Università di Torino ha un livello di ricerca estremamente elevato, non può però riuscire a mantenere questi livelli senza l'aiuto di tutti, senza l'aiuto dello Stato ovviamente in primo luogo, ma anche della comunità che gli sta intorno, della città e di tutti voi. Tra un anno potremmo rivederci con questi nuovi dottorandi che potrebbero essere qui oggi nella nostra comunità grazie al vostro sostegno.